Rurabilandia è una fattoria sociale nativa perché nasce all'interno di una storica estesa di importante azienda agraria pubblica proprio a scopo etico e sociale. Per questo non è una fattoria che inserisce nel processo produttivo la componente etica e sociale, ma è lo stesso processo produttivo ad essere immanemente etico e sociale. Grazie a Rurabilandia per i ragazzi sia aperta una nuova prospettiva di vita che ha contribuito a migliorare la loro qualità di vita e di conseguenza anche quella dei loro familiari.